Aveva messo a segno una decina di furti in poco tempo, entrava in azione sempre nel cuore della notte, faceva razzia di preziosi e poi scompariva nel nulla. Ma adesso il ladro seriale è finito in manette, proprio mentre tentava l'ennesimo colpo. Si tratta di un 53enne valdarnese con numerosi precedenti specifici. I carabinieri della stazione di Montevarchi la scorsa notte lo hanno infatti sorpreso mentre tentava di intrufolarsi all'interno di un'abitazione per cercare di portare via monili e denaro come ormai da tempo era abituato a fare. L'uomo alla vista dei militari ha cercato di darsi alla fuga ma è stato immediatamente raggiunto ed arrestato. Nel corso delle successive perquisizioni i militari hanno trovato anche un cellulare provento di furto che ha aggravato così la posizione del malvivente che dovrà rispondere non solo di furto ma anche di ricettazione. Il 53enne sarà processato per direttissima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.